ciao a tutti ragazzi qui è show con che vi parla oggi vedremo una un'altra serie di tutorial però stavolta sulle guerre e sui vari modificatori che compongono l'esercito e l'apparato militare di Europa Universalis allora per vedere tutti i modificatori riguardanti l'esercito di Europa Universalis basta andare in questo pannello del militare e anche in quello tecnologico e poi vedremo anche perché allora partendo di Europa Universalis le primi basi da sapere sull'esercito sono il force limit e il manpower allora il manpower viene generato principalmente da un valore base di 10.000 e dalle province in poche parole dalle province con il dev militare o con altre varie strutture oppure dalle idee come le quantity allora c'è il manpower massimo che noi possiamo avere questo manpower massimo cioè è bloccato nel senso oltre quello non può aumentare il manpower se non per eventi o per il quando si prende il professionalismo poi per rifillare questo manpower massimo c'è un modificatore che si chiama manpower al mese o currently you gain come dice qua 284 each month ovvero ti da 284 di manpower ogni mese e questo è basato anche sul manpower massimo di solito poi è basato anche sul manpower recovery speed che principalmente le danno le quantity oppure le idee nazionali oppure i nobili allora scusate per la mia pessima pronuncia l'inglese passiamo ad altri modificatori e che il l'army force limit allora l'army force limit ovvero quanti unità puoi avere in campo è determinato principalmente da due cose uno vabbè come si è visto prima del dev militare ma specialmente dalle idee nazionali e dalle idee che noi prendiamo tipo le quanti di oppure le offensive oppure come abbiamo come abbiamo visto nei video delle costruzioni dagli edifici allora se si supera l'army force limit le nostre unità costeranno molto di più quindi sarà pesante per la nostra economia e se non si fa l'attenzione ci porterà la bancarotta specialmente quando si va over force limit di mercenari lì si rischia principalmente quasi al 70 per cento la bancarotta se non togliamo più o meno abbastanza in fretta i mercenari allora partendo da le varie unità di europa che sono l'affanteria la cavalleria e l'artiglieria allora ognuno ha un suo scopo ora qui non vediamo l'artiglieria però dopo ve ne parlerò allora l'affanteria vabbè il core base di un esercito vabbè a parte se non sei orda l'affanteria principalmente il suo ruolo è prendere botte oppure darne se hai tipo dei bonus abbastanza buoni sulle sue pip che faccia abbastanza danno però principalmente la prima linea che prende danno e che deve soffrire mentre i cavalli o i cannoni fanno danno però in realtà l'affanteria in specialmente se siete di tech diverse specialmente i musulmani gli ottomani oppure anche i cinesi e anche gli indiani fanno abbastanza danno in irli e gli europei non fanno tanto danno in irli gli europei sono buoni per fare danno al morale come fanteria come presto vedremo poi c'è la cavalleria che la cavalleria come specialità ha quella di posizionarsi ai fianchi quando si inizia la battaglia e il suo scopo è fare flanking ovvero accerchiamento questo perché? perché ogni unità ha un flanking di base ovvero l'affanteria di solito può attaccare soltanto quella davanti alle tech iniziali più in futuro questo modificatore aumenterà però rimarrà sempre tipo poter attaccare quella davanti e quella accanto quindi la cavalleria che avrà un flanking molto maggiore permetterà di attaccare anche le unità che non sono di fronte a lei ma quelle che sono tipo più accanto al baricentro del combattimento quindi è utile la cavalleria specialmente quando si è in superiorità numerica quindi permette di infliggere maggior per danno al nemico poi l'artiglieria è l'unica unità che può attaccare da dietro attaccando da dietro l'artiglieria fa principalmente danno sul fire quindi aiuta l'affanteria a fare danno nella fase di fire perché ragazzi dovete capire che su europa universalis il combattimento è composto da due fasi fire e shock ovvero il combattimento in cui si ammazzano con i fucili con le frecce e con le palle di cannone e quella dove si ammazzano specialmente con le armi bianche poi le varie fasi sono composte in tre giorni ovvero ogni fase dura tre giorni e la prima di iniziare è sempre il fire quindi all'inizio anche se il fire è quella lì che inizia per prima in early game non ha tanto valore come dire non influisce così tanto sulla battaglia come pensiamo più il shock a influire il shock influisce veramente tanto specialmente se il nemico ha bonus sulla fase di shock perchè il shock è il modificatore con più danno in early game poi oltre a parlare delle varie unità parleremo di una cosa il mantenimento allora l'affanteria costa 10 di solito di base e 0,20 ora 21 qui però di solito dovrebbe costare circa intorno ai 10 e 0,20 mentre la cavalleria costa intorno ai 25 per il reclutamento e 0,5 per il mantenimento l'artiglieria costa un po' di più ora lo vediamo ora così parliamo anche dell'artiglieria l'artiglieria costa 30 e di mantenimento costa in questo caso 0,68 allora il punto è che l'artiglieria in early game costa veramente tanto quindi consiglio di non farla tranne che ve li assedi poi in tech più avanti quando aumenterà i modificatori converrà a utilizzarla in battaglia però appena si sblocca consiglio di non spammarla in massa perchè è un costo esorbitante e anche abbastanza inutile l'importante è spammarne abbastanza per gli assedi tipo un massimo di 10 per farvi capire allora parlando di delle varie unità ora andiamo a vedere i modificatori base delle unità di cui ci interessano specialmente per quanto riguarda la parte di terra che sono le tattiche, la disciplina, l'army tradition, il morale e il combat width allora cosa sono questi modificatori? allora la military tactics è tipo quanto la nostra unità riesce a resistere ovvero diminuisce il valore dei danni che un'unità prende sia per quanto riguarda le uccisioni per quanto riguarda il danno da morale poi la disciplina aumenta in percentuale sia i danni da morale che i danni per le kill ora la disciplina è un altro modificatore interessante quando si aumenta la disciplina oltre che aumentare in percentuale i danni aumenta anche in percentuale le military tactics quindi la disciplina è un modificatore molto potente che aumenta sia i danni che la difesa di un'unità poi l'army tradition è un altro modificatore che aiuta principalmente nel reclutare i generali ovvero ogni step di army tradition tipo da 0 a 20, da 20 a 40, da 40 a 60 e da 60 a 80, poi da 80 a 100 aumenta i pip che possiamo prendere di un generale allora più è alta l'army tradition e più aumentano i pip del generale allora il pip del generale ora qualcuno qui storcerà il naso è una delle parti più fondamentali del gioco specialmente per quanto riguarda le battaglie allora vincerà sempre, quasi sempre, se non per dadi l'esercito che è il generale migliore ora vediamo perché influisce di più un generale con 6-6-6 contro un esercito che avrà un generale 4-4-4 e avrà 10% in disciplina in più vincerà l'esercito col generale migliore anche se ha 10% di disciplina in meno ora vedremo anche perché quindi i generali ragazzi quando si vuole andare in guerra specialmente nei multiplayer sono importantissimi specialmente per i multiplayer bisogna sempre ingaggiare quel generale più importante oltre ai generali l'army tradition aumenta altri modificatori come il morale dell'esercito che vedremo ora il manpower recovery speed che l'abbiamo visto prima che aumenta quanto manpower possiamo prendere al mese poi aumenta anche il tempo che la nostra unità ci mette a recuperare il morale dopo una battaglia oltre a quello ci aumenta l'assigibility e la lealtà della nobiltà allora parlando di un altro modificatore molto importante per le battaglie è il morale cosa è il morale? il morale in poche parole si può dire anche organizzazione dell'unità allora il morale influisce sulla vittoria o la sconfitta di una battaglia mentre la disciplina influisce sulle kill il morale influisce sulla vittoria o la sconfitta quindi il morale è molto importante per vincere le battaglie cioè è essenziale più morale hai più danno da morale fai quindi e specialmente in early game il morale è molto potente perché di solito a pari numeri a pari numero se non anche in inferiorità numerica vince quello che ha più morale come seconda però in realtà al primo posto vince sempre chi è il generale migliore se il generale è migliore di poche pip vince il morale però tipo se c'è una differenza sostanziale tra le pip del generale e il morale vince quello del generale se ha delle pip veramente molto potenti poi oltre a questo c'è il cavale di infantry race ovvero che se noi abbiamo cioè tipo che ne so se ingaggiamo con un esercito che ha il 50% di cavalleria o il 10% di fanteria se tipo la fanteria comincia a morire e supera questo 50% la cavalleria la cavalleria ha un malus per quanto riguarda il supporto e il danno cioè come dice qui la cavalleria soffrirà il supporto causerà una penalità delle perdite in combattimento poi c'è il combat width il combat width è quante unità possono entrare contemporaneamente in una battaglia quindi di solito più di 24 specialmente in questo caso più di 24 unità per fase di battaglia non combatteranno le altre saranno in riserva a guardarsi tranne per i cannoni i cannoni sono gli unici come abbiamo detto prima che influiscono da dietro quindi sono gli unici che attaccano dal da dietro alla prima linea poi un altro fattore importante per il militare sono i vari siege ability e i fort defense allora i fort defense in poche parole aumenta la durata di un assedio quindi più dura un assedio più uno soffre attrito e più perdite ha ora il fort defense in pianura è inutile però in forti tipo in montagna abbastanza utile perché temporeggio ancora di più con i vari modificatori il siege ability è il contrario cioè velocizza la caduta dei forti poi oltre a questo ci sono altri modificatori per le unità che sarebbero le varie pips delle stesse unità allora le pips delle unità le possiamo vedere cliccando sulle unità molti credo che penseranno a che cavolo servono questi puntini gialli e verdi per quanto riguarda sia la fanteria la cavalleria e l'artiglieria allora le pips sono molto fondamentali per un semplice motivo aumentano il danno del morale e il danno shock e il danno da fire base cioè questi sono dei moltiplicatori per il danno base che un'unità fa allora si può vedere benissimo che tipo all'inizio ora non siamo proprio all'inizio perché siamo più di tech 5 cioè siamo più di tech 1 scusate abbiamo delle nuove unità all'inizio abbiamo soltanto l'alabar della latin medieval infantry poi avremo delle nuove unità e vi spiegherò più o meno a che cosa servono le pip le pip agiscono da dadi che vuol dire ora vi faccio un esempio se io attacco un esercito ora in questo momento io sono molto avanti di tech poi vedremo anche altri modificatori però più o meno le nostre pip sono uguali se vedete io subisco molto meno danno per un semplice motivo a parte tipo per le tattiche i dadi le pip agiscono come i dadi qui ovvero c'è per calcolare i danni su europa universalis c'è un un affare chiamato il combat base ovvero il danno base le pip influiscono sul danno base quindi quando c'è una battaglia le unità attaccano e difendono allo stesso tempo ogni giorno quando io attacco con un'unità che ha due di morale sulle offensive perché le pip gialle indicano l'attacco quelle verdi indicano la difesa allora quando io attacco specialmente quando un'unità attacca usa le pip di offesa mentre quando difende usa le pip di difesa allora attacco e difendere non c'entra nulla con la battaglia in sé tipo l'attaccante e il difensore che come ho detto prima ogni unità attacca e difende allo stesso tempo quindi cosa implica questo che quando io faccio danno se io ho una pip in più al nemico sul shock in poche parole i bennat arms dovrebbero togliere il bonus che noi abbiamo allo shock con la galohang o la longbow mentre se abbiamo la galohang contro una longbow entrambi avranno un bonus di danno di una pip ovvero è come se fosse un dado in più alla battaglia poi la stessa cosa vale per il morale quindi qual è la strategia ottimale la strategia ottimale è quella di avere eh delle pip che influiscono eh sul proprio sulla propria nazione in base ai nostri modificatori ovvero se noi abbiamo morale in più eh noi dobbiamo prendere pip di unità che hanno più morale in attacco ragazzi attenzione non in difesa eh quando noi abbiamo eh più morale del nemico e siamo sicuri eh dobbiamo prendere delle unità con le pip eh forti in attacco specialmente quello morale mentre quando siamo sicuri che il nostro nemico ha più morale di noi dobbiamo prendere delle unità che hanno delle pip in difesa perché annullano il loro bonus di attacco quindi se noi ingaggiamo una battaglia contro un esercito forte in morale abbiamo le stesse pip di offesa il l'esercito nemico ci sbaraglia perché eh non abbiamo nessuna difesa contro il suo morale semplicemente questo poi se noi abbiamo tanta disciplina oppure dei modificatori sulla combattability dobbiamo prendere pip forti eh nelle casualty ovvero nelle uccisioni che dipende dal fire o dal shock quindi una svezia che parte con infantry combattability dovrà scegliere eh longbow o man at arms allora longbow se vuole infliggere più danni che è la cosa ottimale visto che ha infantry combattability man at arms se vuole prendere meno danni infliggerà lo stesso danni con la fanteria ma in questo caso annulla il shock dell'altro nemico eh questo eh vale specialmente per le per le nazioni che hanno eh disciplina o infantry combattability o cavali di combattability e lo stesso discorso vale per le altre tre unità eh nel scegliere le varie pip ora eh in quella dell'artiglieria non c'è tanto discorso da fare perchè bisognerà sempre prendere le le unità che hanno più pip in fire allora con questo eh ragazzi concludiamo e ci vedremo al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti